Questa esperienza mi è piaciuta perché ho conosciuto nuovi amici quando ero estati e ho imparato il capucetto rossi e l'inglese. Questa esperienza mi è piaciuta perché ho conosciuto nuovi amici e perché ho potuto fare una serie di capucetto rossi in inglese perché abbiamo potuto giudarla davanti ai genitori. Questa è la valutazione di inglese, mi è piaciuta perché potevo stare con i miei amici e anche sapere il capucetto rossi in inglese. La valutazione di inglese va a farlo vedere ai genitori dei miei amici e mi è piaciuta con questa esperienza. La valutazione di inglese va a farlo vedere ai genitori dei miei amici e 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 dei miei amici. La valutazione di inglese va a farlo vedere ai genitori dei miei amici e 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 dei miei amici. Grazie a tutti Grazie a tutti